E rieccoci questo sabato, nuovo sabato, primo sabato di marzo ragazzi, quindi si avvicina un po' la primavera, anche se il tempo ultimamente non è che sia dei migliori. Ragazzi mi trovo, e alle mie spalle lo vedete, mi scanzo un attimino, mi trovo in una location veramente bella, è stata una mostra che ho visitato la settimana scorsa e appunto mi sono portato dietro alcune fotografie veramente molto interessanti. Ora non so se le percepite dietro, ma sostanzialmente sono delle rappresentazioni fatte con gli scarti, scarti materiali di tutte le nature, scarti diciamo da plastica, gomme, accessori di borse, cioè di tutto, di tutto, tessuti ovviamente. E io ovviamente sono insieme a tre campioni del mondo del calcio, sono abbastanza molto ben fatti, quindi sono facilmente così riconoscibili. Che dire ragazzi, come sempre una settimana è stata all'insegna diciamo della costante, della continuità, ecco, più che costanza, continuità, continuità che alcune volte per certi versi può diventare anche un qualcosa di noioso, almeno, perlomeno a me l'impressione che mi dà è che la continuità potrebbe essere anche intesa come, diciamo, abbinata al noioso, alla monotonia. Perché dico questo? Perché oggettivamente, questo lo sto vedendo anche un po' per quello che sono i riscontri della community, che comunque io ringrazio sempre, perché diciamo a piccoli passi c'è sempre qualcuno che si iscrive, e c'è sempre qualcuno che comunque commenta e a me fa molto piacere. La monotonia sta nel fatto appunto che ogni giorno della settimana, lo stesso giorno della settimana, abbiamo una solita programmazione. E per chi mi conosce un pochino, lo sa che spesso e volentieri, averci la solita programmazione mi crea, mi crea, cioè avere sempre, fare sempre le solite cose, e poi l'abitudine dell'interno, insomma, avete capito, mi dà fastidio. Quindi io ora sto cercando di portare il più avanti possibile l'avventura con il mondo bellissimo, tra le altre cose, di Hogwarts, non ne parleremo, diciamo, di brand, ovviamente, ma poi vi farò un pochino una carrellata di quelli che saranno i giochi futuri, che saranno disponibili, c'è ne sono un paio che sono veramente, fortemente interessato, e soprattutto vi farò vedere anche un meglio, vi, diciamo, accederò a quelle che potrebbero essere le nuove serie che entreranno a far parte, magari cambiando un pochino anche i giorni della programmazione, per dare una scossa. E questo potrebbe essere anche a partire dalla settimana prossima, magari a fine di questo, diciamo, weekly ve lo racconto. Allora, questa settimana cosa è stato? Allora, per quanto riguarda la carriera, diciamo, del campionato, del football, mi sta sempre più piacendo, devo essere sincero, qualcuno mi ha chiesto, e io vi ringrazio, ovviamente, nei commenti sapete che io lo leggo sempre, poi magari non vi rispondo subito, ma vi rispondo appena posso, ma qualcuno ha chiesto se poteva essere organizzato un torneo, ed è una delle cose che vorrei fare. Ora, io, diciamo, come faccione, sostanzialmente gioco solo alla carriera, o perlomeno gioco solo alla modalità campionato, quindi gioco solo offline, non mi sono più messo alla prova con l'online, quindi, diciamo, forse un po' di difficoltà, però sono ben accetto a poter, magari, cominciare a pensare di organizzare un torneo. Tra le altre cose, il gruppo di football come in Italia, cioè il vecchio PS per play normali, ha un numero abbastanza cospicuo di persone, anche se, ragazzi, questo è un appunto che vi faccio, voi che fate parte di quel gruppo, che sicuramente vedrete in questo video, perché io lo posto anche su questo video, cioè, o perlomeno, qualche link di collegamento c'è, o perlomeno qualche mia avventura su e-putbo lo trovate, ecco, commentate poco, o perlomeno condividete poco, condividete, ragazzi, condividete. Ho bloccato qualche utente, perché postava, diciamo, dei video che non erano attinenti al... E chiudo qui, eh, non amplio, diciamo, il motivo, ma comunque non erano attinenti al gioco, e poca, poca, diciamo, da parte vostra condivisione. Quindi, magari, anche gli amici, gli loyal team manager, che, non so se vedranno questo video, ma comunque, spesso e volentieri, vedono il video del faccione quando, appunto, la domenica è il mercoledì, posta, domenica due episodi, sapete, poi lo appunterò dopo, e quindi, ecco, magari, anche voi, magari postate qualche cosettina, perché fa sempre comodo, e poi è sempre un giro di informazioni con gli altri amici e canali. Per quanto riguarda, invece, la carriera allenatore, stanno andando avanti, altri in bassi, anche se l'ultimo episodio, vedo il giovedì, ragazzi, abbiamo fatto due vittorie, sofferte, la seconda soprattutto, e siamo andati avanti in Coppa, quindi l'obiettivo, ovviamente, è quello di riuscire a vincere, almeno l'unica pompa che ci rimasta sarà difficilissimo, perché ci garantirebbe un posto in Europa. È la prima stagione in premio, quindi la cosa importante è di cercare di far, così, creare un gruppo, magari con le premesse di fare molto bene nella stagione successiva. Può anche essere che nella stagione successiva, se arriva un'offerta a vista allegria interessante, potrebbe anche lasciare la terra inglese per magari avvinturarsi da qualche altra parte. Non sono chiuse le porte a nessuna soluzione. Questa, ve lo dico ora, ma, insomma, ve lo ripeterò al momento opportuno. Per quanto riguarda, invece, il mondo di Hogwarts, due episodi molto corposi, soprattutto nel tenerdì, che è avuto più di un'ora, me ne sono accorto solamente in fase di montaggio, dovuto per forza delle cose a fare in quanto la fase di montaggio, perché la prova a cui siamo stati sottoposti, soprattutto la seconda, era, diciamo, molto arduo, ha dovuto ripetere più cose in più volte, e quindi volevo scocciarvi, e quindi ho dovuto fare tanti tagli. Però, insomma, ragazzi, siamo a 21 ore di gioco, mi sembra di non avermi mai, non aver mai fatto così tante ore su un gioco, che non sia appunto quello dedicato al mondo calcistico, o in generale allo sport. Quindi sono soddisfatto, la storia vedo che sta avvolgendo verso una cosa interessante, e poi soprattutto ho capito determinate dinamiche, e voi direte, boh, dopo 24, 25, 15 puntate, ti sei accorto delle dinamiche? Sì, è vero, perché io poi, ma sapete, no, che io, diciamo, soprattutto questo gioco ci gioco al massimo due ore alla settimana, quindi è normale che diventi. E proprio per questo cerco sempre di evitare delle storie troppo lunghe, perché non sono proponibili per come è concepito il canale PG Passive Games. Quindi la prossima avventura, che vi lo dirò subito, sarà... Volevo fare un titolo di Tomb Raider, quello ultimo che mi manca, ma l'ho messo un attimino dalla parte, anche se sinceramente forse a livello di community avrebbe fatto più successo, perché sapete, no, c'è i tre capitoli, i primi tre capitoli rimastralizzati, quelli dove la, diciamo, l'eroina Lara Crawford era praticamente molto stimizzata, non posso dire, era... girava sulle PlayStation 1, quindi capite bene qual era il tipo di grande, però ho visto che alla community in generale, non quella di PG Passive Games, è piaciuto. Quindi potevo cavalcare quell'onda, però invece mi ha molto attirato il titolo di Resident Evil 3, e voi direte, ma perché non fai il 2, visto che il 2 l'ha già incominciato? Il 2 lo faremo dopo, e quindi molto probabilmente partiremo con quello. Ve l'ho già detto qualche altro weekly, ve lo ripeto adesso, ma cercheremo di essere presenti con quella storia. Tra le altre cose non è una storia lunghissima, quindi... e poi ovviamente aspettiamo con molta passione, anche se la critica l'ha già demolito, il titolo derivante... un titolo che riguarda l'avventura di Indiana Jones. Indiana Jones che io, tra le altre cose, proprio inizione Xbox 360, ve l'ho portato sul canale, ci sono 4 episodi, c'è una playlist dedicata, se mi interessa andrà a vedere, poi mi sono fermato. Ecco, quello, siccome è molto cinematografico, anche se, ripeto, la critica l'ha letteralmente distrutto in fase di commenti, tanti streamer non lo giocheranno, ma a me sinceramente mi interessa il giusto, ecco, sicuramente lo porterò, quindi sarà un'altra serie. Non so quanto dura, anche perché, a parte quelle videate che tra l'altro si fece il week, dove mi fece vedere un attimino quello che era il gioco, o poi vi ho dato altre immagini. Non sappiamo nient'altro, se sinceramente... Sì, sappiamo quali sono i personaggi, sappiamo quali sono i new entries, ma non sappiamo la durata. Quindi poi, quello magari lo scopriremo anche inizio. La settimana prossima, appunto, continuiamo un po' la nostra storia, non lasciamo niente al caso, valutiamo se cambiamo le giornate di proposte, e vediamo, un attimino, non credo, quindi martedì e giovedì dedicato al calcio, ho targato gli AFC, i 24, il domani, domani il doppio episodio di eFootball, con la partitona, diciamo, pomeridiana alle ore 14.30, della Roma, la Roma è stata veramente molto forte, ripeto, quello che vi ho già detto, per me sta molto a più... Forse, per certi mesi, mi sta appassionando più di quello di EFC, forse perché la novità, non lo so, sinceramente, e ve l'ho detto mille volte, non è la Master, ma è un antipasto, non è PES 2021, ma è FUT2024, e quindi ci sono tutti i criteri, ci sono tutti i cresti per poter divertirsi, anche offline, con quel gioco. Detto questo, chiudiamo questo breve weekler del sabato, parlando di quelli che sono, alcuni titoli che usciranno a breve. Allora, sapete che nel Game Pass sono previsti diversi titoli, alcuni addirittura al Day One, diciamo, scaglionati da qui a giugno, mi viene in mente il titolo dedicato, il titolo, ovviamente, del caso 2024, dedicato al Baseball, MBL, che noi abbiamo sempre giocato, e quindi anche quest'anno faremo una capatina, magari senza scaricandolo, ma facendo un paio di partite, portandolo sul canale, magari, lo so, trovandolo in una collocazione, ma a breve uscirà anche il titolo, tagliato al 2024, dedicato al mondo della simulazione degli aerei. Questo parlo di Flight Simulation, titolo Microsoft, esclusiva Microsoft, e quello, molto probabilmente, ritorneremo un po' a volare di sceli italiani, o anche extra italiani, quindi mondiali, come abbiamo già fatto, anche perché è un titolo che a me piace tantissimo, non è facilissimo, e spesso e volentieri, magari, se non sei un pilota provetto, la community lo approva, la community in generale, i community, non parlo di PG Passing Names, perché voi siete una community, piccola, molto piccola, ma che comunque apprezza quello che il faccione propone, ma io parlo in generale, dicevo, non si vede tanti video dedicati a questo, secondo me, esagerato gioco, sia come grafico, anche come simulazione, ma soprattutto, diciamo, non è apprezzato a meno che tu non sia un pilota provetto, però anche lì, siccome è una cosa un po' più particolare, un po' più di nicchia, anche le live su Twitch non ne vedo tantissimo, forse ne vedremo quando uscirà il titolo 24, anzi, sicuramente ne vedremo, però sostanzialmente questo è. Per quanto riguarda, invece, un titolo che, vabbè, ci sarà poi l'uscita a fine mese di Diablo 4, che non è un titolo sui miei cordi, io ho portato sul canale, se non sbaglio, la demo, la prova, non me lo ricordo, non è un titolo, però è un giocone, per chi piace, quel tipo di gioco è un giocone, però non rientra nei miei cordi, quindi non tornerò a talcare i territori infuocati di Diablo 4. Sono molto curioso, ma non farà parte del Game Pass, poi a nicchia vi dirò un po' qualche cosentina del Game Pass, a più delle parole, questo episodio, è Alone in the Dark, che uscirà, se non sbaglio, il 22 di marzo, un gioco in cui tanti hanno delle aspettative, ma che non si conosce tantissimo, qui non è che si parla, non si sa quanto dura, qui si parla che sa pochissimo proprio del gioco, è un remake e su un remake io alcune volte diciamo ho alcuni dubbi, mi viene in mente il remake di Alawake, il primo titolo, non il secondo, che fu fatto proprio perché poteva andare in là, cioè doveva fare un richiamo dei giocatori del titolo che girava su le console di vecchie generazioni, se non vi voglio, la PlayStation 2 e la 360, il primo Alawake, e appunto fu fatto il remake migliorando un po' la grafica, un pochino anche la giocabilità, perché? Perché era l'antipasto quello che sarebbe stato invece poi il titolo numero 2 che è stato veramente molto bello, l'unica cosa che faccio ne non lo ha neanche diciamo avvicinato, perché come sapete io sono molto restito sul fatto che i giochi non si sa i giochi che non sono gli oppiati in Italia, a me piace, vero che ci sono sottotitoli, a me piace però anche la parlata italiana e quindi non mi ci sono avvicinato. Sul primo titolo fortemente più forte ho cercato di cliccare su acquista perché c'erano delle offette veramente strepitose, però alcune volte mi ponevo il discorso cosa prendo? Prendo la versione rimasterizzata o la versione originale? alcuni streamer parlavano che l'originale era decisamente migliore rispetto alla rimasterizzata ovviamente però dal punto di vista grafico certamente no e alla fine poi io aspetto che arriverà e sono sicuro che arriverà sul Game Pass e Alone the Dead Ark che questo rimasterizzato è un remaster di quello che era il titolo maestorico gioco di horror chiamiamolo così con dinamiche che appunto ripeto sono state un attimino anticipate ma non più di tanto ecco questo esce in 22 quindi praticamente poco diciamo poco più di 20 giorni anzi poco meno in 20 giorni perché oggi ne abbiamo ne abbiamo 2 quindi fra 20 giorni esatti esce e sto valutando sto valutando anche se ripeto ormai di serie ce ne diamo tanti è logico che se porto un'altra serie una nuova serie sul canale devo rallentare un po' altre cose quindi vediamo vediamo un attimino sul discorso continuando il discorso dei diciamo del Game Pass ragazzi qualcuno mi ha chiesto anche in messaggi privati se sul catalogo Game Pass a breve oppure c'è la prospettiva di rivedere i titoli di Call of Duty allora la risposta che ho dato e che vi do ora così velocissimamente è che secondo me sì perché intanto alcuni titoli anche quelli più importanti dedicati al mondo di Far Cry grosso e bel mondo di Far Cry peccato non ho ancora portato sul canale il 6 io c'è una playlist dedicata per quanto riguarda il 5 che l'ho portato parecchia avanti non l'ho finito ma mancava poco la storia principale è quasi finita è arrivato a un punto in cui avevo delle difficoltà quindi sapete quando trovo delle difficoltà mi invento mille scuse e non lo porto a finire però lì sono andato parecchi avanti come Hogwarts dove siamo a più di 20 ore di gioco ma lì ci siamo andati molto vicini e dicevo a Far Cry mi sarebbe piaciuto il 6 portarlo anche se non ero di accordo perché non è tradotto italiano ecco per quanto riguarda così come appunto sono stati portati alcuni titoli Ubisoft mi viene in mente anche il capitolo dedicato diciamo al mondo cibermetico della Londra futuristica e anche no di che non mi viene il titolo ecco comunque diciamo siccome c'è un accordo tra il mondo Microsoft e appunto lo sviluppatore di Call of Duty credo che non so se tutti i capitoli ma tanti capitoli verranno proposti tra le altre cose tra le altre cose se appunto volete giocare a giochi sparatutto se volete giocare appunto ai giochi sparatutto per chi ha il Game Pass Ultimate potete andare a dare un'occhiata al catalogo IA dove ci sono tanti titoli targati Butterfly che è un po' praticamente il concorrente di Call of Duty qualcuno dice meglio quello tra le altre cose c'è anche il titolo ultimo l'ultimo Butterfly che a me non piace devo essere sincero perché puntano molto sull'online una storia mi sembra non ci sia nemmeno una storia così come alcuni capitoli di Call of Duty non hanno una storia sì ce l'hanno ma molto breve puntano molto sulla puntano molto sull'online ecco su quello a me piace più un gioco dove c'è la storia poi ci può anche essere le coop l'online per l'amore del cielo è un qualcosa che però ci deve essere la storia tanti Call of Duty hanno la storia così come anche i Butterfly per l'amore del cielo però secondo me l'imprunta della storia mi viene in mente il Call of Duty ambientato durante la seconda guerra mondiale dove si inizia con lo sbarco non mandiero è stata secondo me una storia veramente bella la trovate nella playlist dedicata e quel titolo dicevo di Londra che non mi veniva Watch Dogs perdonatemi perché anche su quello in Legacy c'è una playlist dedicata anche lì siamo arrivati quasi alla fine non l'abbiamo completato ma ci mancava poco a livello di missione molto bello il primo capitolo non l'ho giocato il secondo capitolo l'ho solo provato ma non l'ho portato sul canale ma molto bello anche quello il terzo in Legacy veramente bello veramente il terzo capitolo dedicato al mondo di Watch Dogs bello bello l'inglese non è non è non è la mia lingua allora io direi di chiudere qui allora ragazzi con questa mia chiacchierata dominicale vi dal diciamo dalla mostra in quel di Ponte d'Era io vi saluto vi do appuntamento per quanto riguarda diciamo la programmazione del canale nel domani doppio episodio una alle dieci con l'analisi di quella che è stata la settimana di Fútbol il poverice all'io quattro di cento il nuovo match della nostra squadra preferita targata Roma di Maogno che è riduce da due vittorie nette nette schiantate contro Napoli e Monza quindi vediamo se si riesce a fare la terza vittoria di fila che ci rilancierebbe anche se è molto alta grazie vi saluto vi do appuntamento per quanto riguarda la programmazione a varie playlist cioè per le programmazioni passate andate a vedere la playlist e per la programmazione futura magari se cambia qualcosa a qualche shop che io vi proporrò un saluto ciao